la prova fotografica che i fan aspettavano ormai da diverse settimane adesso c'è dopo le voci circa un presunto ritorno di fiamma ora non sembrano esserci più dubbi greta rossetti e sergio dottavi sono tornati ad essere una coppia la foto dei due ex concorrenti del grande fratello che si trovavano insieme è arrivata ad eianira marzano che la condivisa tra le sue instagram stories dopo la rottura annunciata dall'influencer lombarda lo scorso 27 agosto in tanti ritenevano che fosse stata scritta la parola fine alla storia d'amore tra l'influencer lombarda e l'imprenditore laziale tuttavia con il passare delle settimane hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza delle voci circa un presunto ritorno di fiamma soprattutto quando greta e sergio sono stati avvistati insieme a torino in un primo momento l'ex tentatrice aveva smentito ma in seguito era apparsa sui social una sua foto in cui lei e il suo fidanzato si trovavano insieme ad un fan negli ultimi giorni erano già emersi segnali di un riavvicinamento sergio infatti è comparso nel riflesso degli occhiali di greta in una storia pubblicata su instagram dall'ex tentatrice inoltre ha messo un like ad alcune immagini pubblicate dalla rossetti in questi giorni a ciò si aggiunge che nelle ultime ore i due sarebbero stati avvistati mano nella mano in un centro commerciale la segnalazione è arrivata a deianira marzano ciao deianira avvistati greta e sergio mano nella mano al centro commerciale carosella di carugate circostanza confermata anche da un'altra segnalazione confermo li ho visti uscire da casa di greta stanno insieme felicemente e adesso è arrivata anche la prova fotografica ad ogni modo i due non hanno mai ufficializzato di essere tornati ad essere una coppia ed è probabile che preferiscano mantenere un profilo basso e tenere privati alcuni aspetti della loro vita sentimentale evitando di dare sempre tutto in pasto ai social grazie grazie grazie